L'ultima volta che ci siamo visti nella vecchia sede di Antenna Sud ricordo che lei mi disse che le piacciono in genere i film a lieto fine e anche a noi piacciono molto questi film e ricordo anche che parlammo della possibilità di averla in Puglia con un Italy a Bari, c'era un progetto, c'era la voglia di mettere le istituzioni insieme per far sì che veramente questa Puglia orto d'Italia e qualche volta anche del mondo venisse valorizzata attraverso un marchio di eccellenza come Italy. Allora da allora le cose come si sono evolute se si sono evolute? Un po' si sono evolute ma intanto c'è una posizione di base, non è cambiata per niente la mia voglia di farlo. Mi sembra che non sia cambiata per niente l'energia di Fabrizio Lombardo Piola di farmelo fare e quindi secondo me sarà un film a lieto fine, io e lui saremo Clint Eastwood, non certo Lee Van Cleef, però se si ricorda Clint Eastwood che era il buono, era molto buono e vinceva lui, però se aveva 11 bastardi davanti tirava fuori la rivoltella e li faceva fuori. Secondo me dobbiamo farlo a Bari, dobbiamo farlo grande, dobbiamo farlo anche un po' poetico, un po' evocativo, questo ultimo avamposto verso i Balcani, verso un altro nuovo mondo. Deve avere questa parte qua e soprattutto deve coinvolgere molto il territorio. Noi abbiamo intenzione di arrivare qua e coinvolgere il più possibile il territorio. Il tema di fondo è che Italy come tutte le cose semplici è molto complessa da realizzare, se riusciamo a farlo qui siamo molto più contenti che farlo da un'altra parte. Rimane questo obiettivo utopico ma anche pragmatico tra me e Fabrizio, cioè di riuscire ad aprire nel settembre del 2012 in contemporanea con la Fiera delle Vatte. Ben fatto. Io la saluto leggendole una frase di un filosofo moderno che sa parlare ai giovani e che spero parli sempre di più ai giovani con la stessa voglia. Voglio sapere se le piace e se si ritrova con questo concetto. È un indovinello, devo scoprire chi è. Dopo glielo dico io chi è. Va bene. Le leggo un passo di una sua dichiarazione. Essere originali oggi vuol dire essere semplici. La semplicità è una originalità bestiale. Le robe più semplici, più belle, più pulite, più oneste, più normali, più veritiere, sono innovative. Io dico sempre che sono onesto e leale per convenienza. Guadagno sempre più soldi. Ben detto. La frase ovviamente era di Oscar Farinetti, che ringrazio. Insomma, e a presto rivederci qui in Puglia e a Bari.